Questo messaggio rivela informazioni confidenziali, segrete, il cui contenuto potrebbe sovvertire il paese. Il contenuto di questo video è legale, divulghe informazioni segretate, una volta ascoltato, passatelo ad un amico e cancellatelo. Esiste un sistema di lobby internazionali che detengono il potere, queste lobby sono le stesse all'origine di guerre a tritesto, si inventano guerre per esportare la democrazia, ma in realtà si vuole estendere la propria egemonia geopolitica. Queste lobby sono le stesse che hanno generato una truffa colossale, una truffa che prevede di dare un valore nominale a della carta, questa carta è di loro monopolio esclusivo, viene quindi prestata agli stati, i quali si indebitano, e non potendo mai pagare il debito, dato che l'unica moneta di cui dispongono viene stampata dagli aguzzini, verrà chiesto alla popolazione di ripagare il prestito con i propri beni, beni concreti, ovvero oro, i nobili, terreni. A queste lobby non interessa affatto prendere i soldi e la gente, in quanto i soldi li stampano loro, e essendo loro gli artefici della truffa, sanno benissimo che i soldi non hanno alcun valore, se non quello nominale da loro imposto. Puntano a farti indebitare con dei numeri per poi prendersi della ricchezza concreta. Questi avvoltori mirano a portare via la ricchezza della gente, a ridurre in miseria la classe media, e una volta ridotta in povertà, dovrà essere costretta anche a vendere il proprio sangue. Una piccola vite, punta a divenire detentrice di tutta la ricchezza. Questi poteri egemonizzanti, si sono messi a capo delle istituzioni, indossando una maschera di falsità, operano nel ruolo di aguzzini, il governo ha un solo incarico, quello di saccheggiare e ridurre in miseria la gente, e nel contempo indossare una maschera di falsità per esercitare una commedia, una tragedia nella quale rivestono il ruolo dei paladini che con delle riforme dovranno salvare la povera gente. I vertici delle istituzioni sono lobizzati, hanno dalla loro televisioni e giornali asservite con il compito di rincoglionire il popolo. Fate girare questo messaggio, e poi distruggetelo. Grazie a tutti.